Siamo al cimitero dell'osservanza di Faenza che è forse il monumento che ha sofferto di più per l'alluvione del maggio 2023. La storia della chiesa di San Girolamo all'osservanza inizia nel XIII secolo come abbastia di Santa Perpetua fondata dai canonici regolari di Mantova. Poi saltiamo al 1444 quando su chiamata dei Manfredi arrivano i francescani osservanti e si rimangono con alterne vicende fino ai primi dell'Ottocento quando c'è la soppressione di Napoleone. Il convento viene venduto all'asta e poi ricomprato dal comune di Faenza nel 1816 che vi realizzerà il cimitero. Nel 1828 ci sono i restauri eseguiti dal migliore architetto dell'epoca che è Pietro Tomba. Il suo intervento viene completato nel 1859 da un suo allievo che è il ticinese Costantino Galli che prende a modello il San Pietro a Roma sia in senso fisico architettonico con questo abbraccio, questa accoglienza nei confronti del visitatore e sia nel colore caldo del cotto. Non a caso Costantino Galli è sepolto proprio qui perché evidentemente voleva farsi ricordare per questa impresa architettonica notevole. Nel cartiglio che sta sotto il suo ritratto tra corone dall'oro e strumenti del mestiere c'è raffigurata, semplificata, proprio la facciata col portico di questa chiesa. All'interno della chiesa si ammira, si fa per dire ovviamente perché è molto sofferente, anzi forse è la vittima più sofferente dell'alluvione del maggio 2023, si ammira questo pavimento in bellissimi quadrelloni di cotto, pavimento che in questa occasione ha subito il peso e gli insulti di ben un metro e mezzo d'acqua che è rimasta qui per giorni e ha provocato il collasso del pavimento stesso in più punti, specialmente vicino all'ingresso, di fianco alla lastra tombale della dulcissima James Manfreda, in particolare di Astorgio II Manfredi, che si fece seppellire qui assieme alla moglie Giovanna Vestri dei Conti di Cugno. Tra le opere d'arte dell'interno della chiesa spicca questo crocefisso ligneo della seconda metà del Quattrocento, è uno dei quattro, sono stati riuniti per affinità stilistica sotto la mano di un anonimo, anche se oggi si ipotizza Giovanni Teutonico, uno scultore itinerante che si fermò a Faenza, realizzò quattro crocefissi, il primo e più importante è tuttora in cattedrale, in origine c'era solo la figura, poi vennero aggiunti quei raggi un po' barocchi che sono dietro e nell'Ottocento venne aggiunta la pittura di sfondo romantica, se vogliamo anche abbastanza ingenua, però del grande Romolo Oliverani che in basso a destra raffigurò anche una improbabile Gerusalemme immaginaria con palmizi, piramidi e moschee. Per la sua peculiarità segnaliamo anche questo potente ritratto del pittore Achille Farina datato 1894 ed eseguito dal suo allievo Tommaso dal Pozzo. Achille Farina aveva inventato una nuova tecnica detta pittura in pasto per dipingere su ceramica come si faceva su tela, mescolando direttamente i colori. Il ritratto è interamente in ceramica, sia il tondo, sia la finice e sia i due festoni basali di alloro. La primissima tomba del neonato civitero di Faenza è questa alle mie spalle del 1816, fatta dai ballanti Graziani su disegno di Felice Gianni e raffigura a sinistra una madre che tiene il bambino, simbolo di vita, ma alla sua sinistra c'è la cornucopia rovesciata, simbolo di morte. A destra invece una figura piangente e sotto un festone di rami di cipresso che incornisce il blasone della famiglia del defunto, che non l'abbiamo ancora detto, è il conte romano Cavina, con il suo simbolo, che è la spilla per spillare il vino dalle botti. Esattamente di fronte alla tomba Cavina c'è, non a caso, la tomba del suo autore, Giambattista Ballanti Graziani. Raffigura il suo ritratto su una colonna circondata da due muse, quella di destra è la Chiesa Trionfante, dalla parte opposta c'è un'allegoria della scultura, inginocchiata, che sta porgendo una corona dall'oro e nell'altra mano sta tenendo i ferri del mestiere, cioè le stecche per plasticare sull'argilla. Nell'angolo in basso a destra invece ci sono i simboli del lavoro, quindi la mazzetta, lo squadretto, il compasso, un libretto con gli studi di figura e una lucerna e un gallo che invece alludono al rinnegamento di Pietro e quindi alla passione di Cristo. Sopra l'altar maggiore, che è anch'esso un'opera di virtuosismo artigianale perché è in legno imitante il marmo, troneggia il bellissimo crocifisso ottocentesco in terracotta di Giuseppe Rossetti, cioè il mutino di Brisighella. Alle mie spalle la cappella laterale del Santissimo Sacramento, interamente decorata come un vero e proprio scrigno negli anni 50 dell'Ottocento dai fratelli Antonio e Romolo Oliverani. Prima ancora guardiamo la palla d'altare con l'Immacolata Concezione, una notevolissima tela di Benedetto Gennari, che è nipote e allievo del Guercino, ad incorniciare il tutto, compresa la lunetta sommitale con il Padre Eterno e gli angeli. C'è una decorazione illusiva, quindi dipinta ma che sembra architettonica, sempre dei fratelli Liverani con colonne Capitelli Corinzi, le due figure di Davide e di Isaia e le fornici monocrome. A destra la nicchia che ospitò fino all'Ottocento la bellissima statua linea di San Girolamo e per la quale Romolo Oliverani fece lo sfondo con tutti gli elementi della sua pittura visionaria romantica, grotta, cascata, rocce aggettanti, cielo tempestoso, eccetera. Le grottesche appunto ricoprono interamente le pareti fino alla volta con simbologie bibliche, evangeliche e un trionfo di fiori, cornucopie, frutta, disegni e freggi in un'atmosfera festosa e coloratissima. Dentro la chiesa l'architetto Pietro Tomba nel suo intervento di restauro del 1828 mantenne le opere d'arte preesistenti tra cui questa via Crucis settecentesca. Si tratta di dipinti su tavola ancora provvisti dalla loro cornice originale. Facciamo vedere in tutta la sua dolente bellezza il grande coro lineo seicentesco che sta nel catino absidale dietro l'altar maggiore. Costruito nel 1650 dal mastro Cappelli di Bagnara nella sua bottega imolese. Il coro è composto da 55 grandi stalli linei in legno di noce e per quanto monumentale e per quanto realizzato in materiale pregiato appunto il legno di noce. È privo di orpelli, non ha intarsi, non ha decorazioni inutili perché era pur sempre il coro dei francescani osservanti vincolati dal voto di povertà perché si trattava del ramo più pauperista, più povero dei francescani. Al centro ancora rovesciato e coperto d'argilla c'è il cosiddetto badalone cioè il leggio girevole su cui stava appoggiato l'antifonario che i monaci dovevano poter vedere da ogni punto del coro per cantare seguendo il tetragramma. In alto sopra il coro del catino absidale abbiamo due deliziose finestre dipinte illusivamente cioè si tratta del cosiddetto trompleil in ganna l'occhio. Raffigurano il telaio della finestra con in basso delle fronde di un albero e in alto il cielo mosso da nuvole. Poi spostandoci al centro abbiamo una tela ottocentesca di Ercole Errani che raffigura il titolare della chiesa cioè San Girolamo raffigurato come una scelta penitente nel deserto a torso nudo con i suoi attributi che sono il teschio, il leone e la Bibbia che lui sta traducendo dal greco. Grazie a tutti.